L'ASL di Teramo apre ulteriormente al confronto per la realizzazione del nuovo ospedale. Il confronto, le ho detto, non deve impedire l'andamento della pubblica amministrazione. Se il confronto è volto a impedire che io faccia l'ospedale, è inutile che ci confrontiamo. Noi ci possiamo confrontare su cosa fare del Mazzini, su come andare a fare il futuro dell'area del Mazzini, su cosa vogliamo mettere il nuovo ospedale, come implementare il nuovo ospedale. Esclusa l'area del Mazzini, l'area più idonea, la location più gettonata, continua a essere pianodaccio. L'area del Mazzini è un'area congestionata e quello che temiamo, andare a fare interventi in quell'area, possa compromettere lo svolgimento dell'attività ordinaria. E in più si va a riempire, già l'area di per sé è molto compressa, tra il parcheggio, l'otto 1, l'otto 2, l'otto 3. Se andiamo a realizzare altre strutture lì, pure per i problemi di viabilità che si possono creare, capito? Perché l'area è molto stretta. Noi l'area nostra abbiamo raggiunto i metri cubi, mi dicevano i miei ingegneri, dicono che tutti i metri cubi per realizzare le opere sono stati e colmo. Tra le eccellenze per il nuovo presidio ospedaliero, neuropsichiatria infantile e pronto soccorso pediatrico in collaborazione con il Bambin Gesù. Ne eseguiranno anche altri di eccellenze, quindi noi dobbiamo, soprattutto riqualificando adesso, dobbiamo fare diversi concorsi importanti per l'ospedale, dobbiamo fare concorsi prendendo ciò che ci offre il meglio, dobbiamo scegliere i migliori professionisti, perché bisogna alzare il qualità della sanità. Oggi o si è concorrenti, altrimenti si viene relegati a un ospedale dove la mobilità, le liste attese ci seppilliranno. La nuova proposta di Project, la terza finora ricevuta dall'azienda sanitaria, è ancora sotto valutazione da un gruppo di lavoro distinto. Uno era il Pizzarotti all'epoca, adesso ci sta un'altra società, abbiamo sentore che arriveranno altri progetti. Ivo Allegro, consulente ASL per gli aspetti economico-finanziari, in primis smentisce la voce che un eventuale partenariato pubblico-privato possa privatizzare la sanità teramana ed evidenzia i vantaggi dell'attuale accordo. Assolutamente, il partenariato pubblico-privato non è una tecnica per privatizzare la sanità, è una tecnica per costruire un'infrastruttura e affidarne la gestione dei servizi non core, quindi quelli manutentivi di pulizia, di riscaldamento, che già attualmente in gran parte del mondo sanitario italiano sono gestite da aziende private, ad un soggetto che se ne fa carico. Il soggetto si assume i rischi sia nella fase di costruzione sia nella fase di gestione. Se non rispetta un determinato livello di servizio che è contrattualmente predefinito, lui non avrà il suo ritorno, quindi non costituisce assolutamente privatizzazione dei servizi sanitari in termini di prestazioni sanitarie.